Ben ritrovati in sala ragazzi, stiamo giocando l'ultimo livello di giornata, 109 giocatori ancora in gara quando i bui sono saliti a 24.000 con l'anta 400, dopo di questo livello nel caso in cui non vengano raggiunti gli 80 player left, ovvero nel caso in cui non venga scoppiata la bolla, il gioco terminerà per quanto riguarda il day 2, riprenderà domani come sempre alle 12 per quanto riguarda il day 3, giornata tutto sommato positiva per gli italiani che vedono comunque approdare al day 3 al momento perlomeno almeno 10 giocatori, speriamo che in questo ultimo livello non cambino molto le sorti della partita, in quanto se così forse appunto 10 giocatori arriveranno al day 3 e possiamo tranquillamente sperare di piazzare almeno un giocatore al final table. Per gli aggiornamenti video noi chiudiamo qui, non mancheremo sicuramente di seguire il torneo con gli aggiornamenti dal vivo sul forum per quanto riguarda appunto questo ultimo livello, noi ci diamo appuntamento a domani con gli aggiornamenti video, vi auguro una buona serata, ciao a tutti!